Prenderanno il via nei prossimi giorni gli interventi di adeguamento alle vigenti norme federali dell'area di gioco del campo di basket del Palacannavò di Viale Federico II di Svevia. Secondo quanto previstono i campionati nazionali, infatti le dimensioni del campo da gioco devono essere di 28 metri per 15 metri, mentre il palazzetto sportivo giarese è di 26 metri per 14 metri. E' quanto accettato questa mattina dalla quarta commissione consigliare, presieduta da Giuseppe Leotta nel corso di una ricognizione tecnica. Il presidente Leotta, poi a margine del sovrluogo, ha manifestato dissenso per l'assenza della dirigente tecnica Pina Leonardi. La commissione stamattina si è presentata lì al palazzetto, ha trovato chiuso il palazzetto, abbiamo dovuto cercare una signora per aprirci, non so chi sia, credo sia la custode, mentre l'ufficio tecnico che è stato avvertito attraverso la PEC per tempo non era presente. Questo voglio denunciare, questo stato di comportamento che l'ufficio tecnico ha nei confronti di chi lavora, dei consiglieri comunali, delle commissioni, consigliari, che si adopero per portare avanti iniziative del lavoro per la collettività. Oggi, per la seconda volta, una volta al parco giardino di San Giovanni Montebello, siamo stati lasciati fuori, nessuno è intervenuto. E oggi, per la seconda volta, spero che sia l'ultima, qui al campo di Palacannavò, nessuno dell'ufficio tecnico è presente. Questa latitanza dell'ufficio tecnico è gravissima e si chiede all'amministrazione di intervenire generalmente. Gli interventi nel palazzetto dello sport giarese consistono nella demolizione della pavimentazione esistente e del massetto sottostante lungo il perimetro del campo da gioco per un'ampiezza media pari ad un metro. La nuova formazione di massetto con la collocazione di rete d'acciaio ad aderenza migliorata e collocazione di pavimentazione sportiva nelle porzioni dismesse. Così, sullo svolgimento dei lavori e sulla sua presenza, la sovraluogo nella struttura sportiva giarese, l'assessore ai servizi tecnici Franco Dirà. Stiamo verificando la situazione generale dei lavori di manutenzione che bisogna fare. Abbiamo verificato che le misure regolamentarie sono 15 per 28, adesso misurando meglio, queste mi pare che siano 14 per 26, quindi va fatto un leggero allargamento della struttura del parquet e naturalmente bisogna mettere con un miglior decoro tutte a partire dalle gradinate che devono essere elevate al livello a cui è arrivata la squadra. Nel prossimo futuro, probabilmente nella revisione del piano regolatore, sicuramente vorrò fare inserire un parcheggio che lasci libera la viabilità come è giusto che sia e che permetta di servire nel modo più completo la cittadinanza e non solo perché vengono qui, ho avuto modo di vedere tante realtà esterne.